Il rapporto tra l'attuale funzionalità della diga di Campotosto, le norme vigenti, il documento di protezione civile della diga di Riofucino ed il documento di emergenza evacuazione sono stati punti focali dell'odierna riunione per la redazione del piano di emergenza della diga di Campotosto. Al tavolo di lavoro presieduto dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso e svoltosi questa mattina in regione a Pescara il quarto in una settimana su questa specifica tematica hanno partecipato tra gli altri il vice prefetto vicario dell'Aquila Giuseppe Guetta, il sottosegretario con delega alla protezione civile Mario Mazzocca, il consigliere regionale Luciano Monticelli, il direttore generale della regione Cristina Gerardis e il direttore del dipartimento lavori pubblici Emilio Primavera. Abbiamo valutato la vigenza dei documenti, ha dichiarato D'Alfonso, e soprattutto la qualità delle informazioni allo Stato anche la luce del fatto che uno dei documenti di pertinenza del Ministero delle Infrastrutture è datato 2000, sebbene con scadenza al 2018. Tuttavia, proseguito siccome un invaso è un corpo vivo, abbiamo anche voluto verificare la puntualità delle informazioni contenute per attivare subito dopo il piano di emergenza che spetta come redazione a Regione e Prefettura dell'Aquila. Sono stati coinvolti tutti i comuni del bacino di riferimento per fare in modo che, in caso di evacuazione, che al momento è scongiurata, siamo in grado di compiere tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza della popolazione. Abbiamo anche verificato la quantità idrica dell'invaso di Campotosto e la quantità idrica che deve essere eliminata, aggiunto D'Alfonso, e secondo quale tempistica, in caso di necessità, debbano coordinarsi autorità di bacino, sindaci e autorità di sicurezza. Infine, a concluso, abbiamo verificato la condizione di tutti gli altri invasi della Regione per fare in modo che nessun evento ci colga impreparati. Peraltro, già fino a ottobre, dopo gli eventi tellurici di quel periodo, avevo chiesto personalmente al direttore delle dighe presso il Ministero delle Infrastrutture di verificare quale fosse stato il livello dei danni prodotti dalle sollecitazioni sismiche.